Stefano Borghesi, guardando i documenti della legge di stabilità si evidenzia che il nord è ancora il banco matta per il sud? Assolutamente sì, questa è una legge di stabilità che grida vendetta in quanto ancora una volta attrazione meridionale, voglio ricordare alcuni provvedimenti come lo stanziamento di 126 milioni di euro per i lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo, come l'ulteriore stanziamento di 90 milioni di euro per i lavoratori socialmente utili della Calabria, come i soldi stanziati per l'orchestra del Mediterraneo di Napoli, come i soldi stanziati per le bonifiche di Brindisi, insomma tutta una serie, e poi l'elenco purtroppo è lungo, tutta una serie di marchette perché devono essere definite con il loro nome, tutta una serie di marchette fatte ad amici di amici, sempre ovviamente del sud, che vanno a garantire questo sistema assistenzialista e corrotto, quindi noi ci siamo posti fermamente in Commissione, riteniamo che questa legge di stabilità, così come è uscita dalla Commissione, sia una legge di stabilità illegittima e quindi faremo di tutto affinché questi aspetti vengano evidenziati anche dall'Aula e che tutti questi provvedimenti a chiara trazione assistenzialista vengano esclusi dall'Aula durante il dibattito. Il Governo dice che ha diminuito le tasse sul lavoro, è vero? Il Governo non ha diminuito le tasse sul lavoro, il Governo non ha dato risposte al mondo del lavoro, non ha dato risposte a situazioni critiche e vergognose come quelle in cui versano gli esodati, si è preoccupato invece, come ho detto prima, di garantire l'assistenzialismo con i lavoratori socialmente utili al sud, quindi non sono state date le risposte che tutti noi ci aspettavamo e ripeto questa legge di stabilità è una legge di stabilità pessima che penalizza il nord.